Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il fisco. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall'ultima legge di bilancio che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti di cui è parte l'Agenzia. La domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lita autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l'intero importo per la definizione o in alternativa se ammesso il pagamento rateale. Nel provvedimento viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1 gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno all'Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato. In attesa dell'attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica è possibile presentare la domanda inviandola all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio che parte nel giudizio. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell'importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 1000 euro. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.